Ciao! E benvenuti sulle video guide di lofaionline.it. In questa guida vediamo come ascoltare le radio di tutto il mondo online. Il sito di cui ci serviamo si chiama ascoltareradio.com. Procediamo quindi ad andare su questo sito. Possiamo raggiungerlo direttamente cliccando il link nella descrizione, oppure tramite Google, come vediamo nell'immagine. Eccoci sul sito. Da questa pagina visualizzeremo le radio principali italiane. Ci basterà cliccare sul logo della radio scelta per ascoltarla. Cliccando invece sulle tre righe orizzontali a fianco della scritta menu indicate dalla freccia, andremo a vedere un elenco, con tutte le possibilità che abbiamo per scegliere la radio da ascoltare. Come vediamo nell'immagine, da questo menu potremo scegliere di visualizzare l'elenco delle radio in base al genere che trasmettono, oppure in base alla regione di appartenenza. O ancora direttamente tramite il nome stesso della radio. Ad esempio, clicchiamo su Lombardia, per andare a vedere tutte le radio che trasmettono nella regione. Visualizzeremo adesso tutti i loghi delle radio che trasmettono in Lombardia. Ci basterà cliccare sul logo della radio che vogliamo ascoltare, come suggerito nell'immagine. Tramite il player che vediamo, potremo far partire o fermare la riproduzione schiacciando play. Possiamo schiacciare il cuore per mettere la radio tra i nostri preferiti. Possiamo visitare il sito web della radio che stiamo ascoltando cliccando appunto, sito web. E ancora, alzare o abbassare il volume, e segnalare ai gestori del sito se per caso un canale non si sente. Da questo sito, oltre a poter ascoltare tutte le radio italiane, potremo ascoltare quelle di tutto il mondo. Come vediamo in alto nella pagina, indicate dalla freccia, vedremo le bandiere di vari stati. Ci basterà cliccare su una di queste bandiere. Nell'esempio clicchiamo sul logo della Germania, e visualizzeremo quindi tutte le principali radio tedesche. Se non troviamo tra le bandiere la nazione che stiamo cercando, o non riconosciamo la bandiera, possiamo cliccare come indicato nell'immagine su più paesi. E da qui, come vediamo, potremo scegliere tra tutte le nazioni semplicemente cliccando sul nome del paese scelto. Tramite questo sito quindi, troverete quasi sicuramente la radio che state cercando. La guida termina qui, ma per ulteriori informazioni potete contattarci nei commenti, o tramite i social. Grazie per aver seguito questa guida. E ricorda di iscriverti al nostro canale, cliccando su. Iscriviti, come vediamo nell'immagine. Sul nostro sito, lofaionline.it, trovi molte altre guide in formato classico, da leggere, sempre gratis e illustrate. Passo, dopo passo, come semplificarci la vita su internet? lofaionline.it Il nostro sito, 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 il nostro sito.